come azzecare l'arrianna ciao a tutti oggi sono insieme a una persona speciale arianna ciao e oggi faremo il video aiaia il niente nato viti regali ma che bello ha tirato il malone all'arrianna no 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 figlio si è finita o mio allora oggi facciamo due video il video nello stesso momento Nello stesso giorno Nello stesso momento Cosa molto importante da sapere Noi due Siamo sul tetto Sì, vabbè, non si nota tanto Ma adesso vi mostro Questa sono io Questa è la Ginny Stavo dicendo aiutamente Anziché assolutamente Facciamo due video perché Perché Uno sarà il video Della serie Marina e Bluebell Che se riesco lo metto in premiere Se riesco lo metto in premiere Gli altri invece sono Il backstage di questo video Di questo video E probabilmente Se riusciamo anche di altri Però ovviamente questo qua lo pubbliceremo Cioè lo pubbliceremo Più avanti perché magari mettiamo Anche di altri video che facciamo Oppure questo lo pubblico oggi E ne faremo altri Non lo sappiamo Ancora Ma poi oggi Quando Lo pubblicherò Oggi 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 Quando stiamo registrando Oppure lo pubblicherò domani Si sa No Non è vero Comunque sarà oggi Per voi che lo vedete Ma credo che lo pubblicherò Oggi Nel giorno in cui Registriamo E quindi lo vedrete Nello stesso giorno A meno che voi siete del futuro E state vedendo Questo video nel futuro Wow Ma mio Dio Ditemi Com'è il mondo È cambiato In non so quanti giorni Sì infatti Perché Perché Anche se noi lo vedremo Aiuto È caduta Comunque Adesso ci fermiamo E poi vedete Altre scene Del backstage Volevo solo dire Oggi stiamo registrando Un episodio molto speciale Ossia Ehm Ambra Che va al corso Il mio gatto Che fa una faccia Tipo Salvatemi Vi prego Il vestito Che non va E Niente Oggi Facciamo Un video In cui Ambra Andrà A un corso Di italiano Per E Spero che Sapete che Lei è spagnola Se avete visto L'ultimo video Che abbiamo fatto Se non l'avete visto Andate a vedere E conoscere La faccia Di Alvin Voi non avete Ancora Visto Alvin Perché era piccolino E quindi Dove essere a casa Sì Non l'ho mai portato E Questa volta Vedrete Alvin Wow Wow Siete pronti? Va bene Ok Da notare Gli scarpini No Scarpini Gli stom Più So Arror Arror Quindi You are Sombror You are Sombror Non lo so You are Sombror Benissimo Partiamo a registrare Allora Mentre partiamo Il video Io Con una mano Ti lascio Questa qua Aiuto Che casino Aiuto Siete pronti? Va bene E come mettiamo insieme Alla sera? Sì Io sto tirando Con un'amica All'imbraccio Perché dobbiamo fare Vada e scene Ciao No Mi sono dimenticata Che era spagnola Io E tipo Ciao Ombra Come va? Ola Ola Ah Mi fa ridere Questa cosa Casino 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 Ma notare Che prima Abbiamo Giocato A Bisutodou Con le Reborn Non so se lo conoscete Cioè È un gioco Per la buonanotte Della camera C'è un casino Perché prima Abbiamo fatto finta Di giocare Non ne parliamo Non ne parliamo Non guardate Non guardate State tutti zitti E non diterò nessuno Cane Cane Non mi ha capito Questa cosa Ora Sì magari prima Si No no ma Tagliavo Sono rimasta Letteralmente In camera Da sola Da sola Aspettando Ginevra Io Non so Faccio qualcosa Gioco Con la casa Che avete visto In un video Di Ginevra Andatela a vivere Che è bellissima Qua Sono Guardate Quanti piccoli oggetti Che si possono spostare Questi Anche il giardino Le varie stanze Andate a vedere Non vi spoilerò Curiosità Ora vado a scoprire Le scene Che Rihanna Ha filmato Da sola Perché adesso Abbiamo fatto Scambio di ruolo Quindi adesso Sono rimasta Io sola Ah vi lascio Il link In descrizione Per il video Della casetta Delle bamboli Così se volete Vederlo Comunque non capisco Ari Adesso mi devi Spiegare Il motivo Per cui hai fatto Un video In cui cante chiave Senza cosa Come lo fai Senza spesco Non è vero No dai Guarda che lo inserisco No Dai Dammi qua Io che nelle scene Mi invento Di avere le cose Oddio Hai un libro? Eh prende Questo Questo Ok Questo Questo Facciamo finta Che lo Ah Questo Adesso vi spiego La bambina Che voleva diventare Un sasso Scritto da Sio In arte Scottex Come scritto Scottex? No scritto da Sio In arte Scottex Ma Sio Ma Sio In realtà Sì che è Massimo Nelbrigi Shock Ma tu conosci Sio Almeno Come beccare Ergan Sei bloccato il disco Ciao Ciao Grazie Oh Veramente La grammatica Voglio giocare con il dottore Perché abbiamo un dottore In casa Ragazzi Adesso No tu non sei No tu non sei E vedi la mia Faranno due ore Le domande Di Ginevra Come saranno Marina e Ambra E Nicole Quando saranno grandi Anzi ragazzi Se ci avete voglia Fate un disegno O sul digitale O su carta Di come saranno Secondo voi Ambra e Marina E Nicole Da grandi E Mettetelo su Instagram Se potete Taggando Polvere di stelle Ginevra Caso We are the champions My friends Grazie Le riflessioni Di Arianna Stiamo facendo Più video Del backstage Di quello Del video Video Hai capito Ma Di Nero Stavo bussando Rifazziamo Di Bambino Di Bambino Di Bambino Di Bambino Lei lo sai che l'hai Lei lo sai che l'ho Eppi stai mi stai mi stai mi Stai mi stai mi Dò che sa Fanta Zio Zia Dò che fa Dò che fa ora Che fa bello questo abbiamo capito la pia ok buongiorno buongiorno e io come vi chiamate eseguala no come non riesco più a parlare italiano come vi chiamate eseguala no 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 tengo sei no quantos anni hai quantos anni os sapetei chica quantos anni os sapetei io tengo 3 anni io io tengo 2 anni io tengo no non riesco sono diventato un serpente cosa 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 no è no 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 adesso andiamo a fare una passeggiatina no sono lei è la nostra moscata ok allora ditoci a se vi piace tanto se si possono lasciare commenti lasciateci commenti se vi piace tanto questa cosa delle lezioni dallo spagnolo all'italiano che abbiamo già avuto qualche idea però non mi non vi spoileriamo niente no 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 ma soprattutto iscrivetevi se vi piace tanto questo video e ancora più importante lasciateci tanti like così capiremo che vi piace se superremo un tot di like di like quanti like 20 e si va bene potremmo pensare una cosa che se volete saperlo mi raccomando non perdetevi i prossimi video non siamo certi che la faremo però vedremo però vedremo ciao